ciao amici in tanti mi chiedono se ti tingi i capelli ho già risposto no sono naturali se sei fidanzata con squaletto a parte il fatto che nessuno mi fa questa domanda e la risposta è no squaletto è e vuole restare uno scafolo d'oro vero adesso fammi finire di parlare tanti mi chiedono perché fai tutti questi video gratis la domanda ha senso giustamente è un motivo c'è io amo la salute naturale e amo divulgarla allo stesso tempo credo anche in un'altra cosa nello scambio e nel baratto e questo da sempre pensate che bello poter scambiare oggetti tempo competenze conoscenze invece di denaro per me sarebbe fantastico il mio ideale ma non per tutti infatti quando ho detto al padrone di casa che per pagare l'affitto potevamo fare un baratto ha detto no voglio i soldi subito ma come ha detto così a me che dedico tanto tempo ai video gratis e ci credo veramente allora ho pensato di trasformarmi in robin hood che ruba i ricchi per dare ai poveri ma non sono portata per queste avventure è il padrone di casa non è povero ma ci deve essere un modo in sintonia con te per sostenere il tuo canale certo che c'è e ne sto parlando per questo è sufficiente un piccolo gesto da parte vostra voi che mi seguite da casa vi va di offrirmi un caffè d'orzo e una brioche vegana al mese come se andassimo insieme al bar a chiacchierare io vi dessi tutti i miei consigli gratis e alla fine alla cassa voi diceste no simona questo lo offro io beh io direi sì grazie accetto volentieri perché mi fa piacere che tante ore di approfondimento e selezione di contenuti e pubblicazioni di video da parte mia vengano riconosciute anche con un piccolo gesto non troppo impegnativo 4 euro e 99 al mese da oggi potete abbonarvi al mio canale come se fosse una rivista la vostra rivista preferita con meno di 5 euro al mese potete accedere a contenuti specializzati che spesso valgono una consulenza ben più costosa e alcuni bonus speciali come nuovi ebook e post che cresceranno nel tempo il pagamento è super sicuro perché avviene tutto dentro youtube per me farà la differenza insieme potremo creare una community speciale noi che crediamo nella vita trendy e sana scusa ma cosa riceveranno i tuoi abbonati live streaming esclusivi con domande e risposte sondaggi per decidere insieme nuovi video da pubblicare aggiornamenti con foto e filmati dietro le quinte del backstage e post speciali dedicati tutto sulla scheda della community quando vi abbonate nei commenti ai miei video apparirà vicino al vostro nome un nuovo simbolo eccoli qua questo appena vi abbonate questo perché abbonato da tre mesi questo perché abbonato da sei mesi i fedelissimi così tutti sanno che voi siete gli amici trendy e sani che mi aiutano a mantenere il canale aperto poi ci sono delle emoti con bonus delle faccine simpatiche queste sono speciali che potete solo usare voi con me nei commenti e nelle chat dal vivo eccoli qui ma non sono carinissimi c'è anche squaletto e in futuro ne aggiungerò altre chi abbonato le può usare da subito i contenuti speciali video dirette dal vivo e post in esclusiva li troverete nella tab community del mio canale e saranno visibili solo agli abbonati parteciperete molto più da vicino alla vita del canale faremo anche tante cose insieme ma non è bello a me piace l'idea di essere più a contatto ma quindi metti il canale a pagamento niente più video no tranquilla il canale rimane aperto a tutti come sempre ma con il sostegno degli abbonati riusciremo a farlo crescere ancora di più con contenuti ancora più utili e divertenti che ho in mente da tempo ma non posso fare tutto da sola datemi una mano abbonatevi quindi non lo fai per andare in vacanza a spese nostre come certi altri youtuber ormai mi conoscete sono una persona corretta e fin troppo coerente il mio obiettivo è che tutti voi possiate usare il canale come una enciclopedia della salute naturale quando c'è un problema volete sapere come usare un prodotto naturale un alimento speciale potete andare a vedere nei miei contenuti ma cosa consiglia simona ma cosa dice la scienza per realizzarlo servono tempo risorse tecniche e anche e solo con il vostro supporto il canale può davvero crescere io sono sempre io ma insieme siamo più forti la nostra community trendy e sana deve diventare una forza della natura per questo da oggi sotto ogni mio video trovate il nuovo bottone abbonati se non lo vedete trovate il link in descrizione perché la app di youtube non è uguale per tutti gli smartphone ma se non lo trovate scrivetemi e io vi aiuterò bene io vi aspetto numerosi numerosissimi in questa nuova sezione membership del canale sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ci vediamo di là ciao